Siamo pronti per una nuova tappa del Radio Norma Battiti Live 2019! Natrani, Piazza Quercia, in compagnia di... Rocco Hansi, Anna Lisa, Bianca Zey, Capri Ponte, Giordana Hansi, Paola Turci, Sergio Silvestre, Mr. Rain featuring Martina Artini, Enrico Nidotti, Jay Crafuria, Lady Vibrazioni, Shade Federica Carta, Cristiano Margoglio, Irama, Giant Roots, Benje Fede e... Radio Norma Battiti Live, mercoledì 21.10 Italia 1 Nel cuore della musica!